Buonasera a tutti, sono Tiziana Guerra, Presidente della Commissione del Sociale del Comune di Carrara. Nella scorsa commissione abbiamo portato all'ordine del giorno osservazioni sulla bozza di regolamento dedicato alle pagine dell'Associazione di Volontariato del Comune di Carrara, un'integrazione delle informazioni sulla bandiera Lilla ed anche una discussione sulle consulte del sociale. Per quanto riguarda il regolamento della pagina dell'Associazione di Volontariato, abbiamo creato una bozza che è stata discussa all'interno della commissione e che verrà poi sottoposta al dirigente del settore per poter essere definitivamente pronta. Per quanto riguarda invece la bandiera Lilla, ricordo che è un riconoscimento che viene dato ai comuni virtuosi nella ricettività dedicata alle persone disabili. Abbiamo richiesto un protocollo dedicato al Comune di Carrara e abbiamo discusso in commissione l'opportunità di aderire al protocollo e quindi di aderire alla bandiera Lilla, ma per il momento abbiamo ritenuto di non essere ancora pronti, diciamo così, per affrontare questa certificazione. Seppure terremo in alta considerazione tutte le informazioni che abbiamo ottenuto in modo da migliorare la ricettività dedicata alle persone disabili sul nostro territorio. Per quanto riguarda invece le consulte, abbiamo ritenuto che sarà importante riattivare sia la consulta Anziani che la consulta Handicap che già operavano nell'amministrazione precedente. Aumenteremo il numero delle consulte individuando altri settori importanti nell'ambito del sociale per i quali sarà opportuno avere una consulta di riferimento e creeremo un tavolo mensile attorno al quale si potranno sedere i presidenti delle consulte in modo da portare i progetti usciti da ogni singola consulta e discuterli da ogni punto di vista. La prossima commissione del sociale si riunirà il 4 di ottobre prossimo in seduta pubblica al Comune di Carrara.